Buongiorno, sono Davide Zanon, il segretario regionale dell'Associazione Consumatori Codici e oggi siamo con il dottor Monteverdi di Uni, l'ente di normazione. Dottore, che cos'è Uni e a cosa serve la normazione? Uni è appunto l'ente italiano di normazione. La nostra attività consiste nell'aiutare in tutti i casi i possibili consumatori quando si trovano in situazioni di acquisto e non hanno tutte le informazioni necessarie a fare un acquisto consapevole e responsabile. Esperienze che capitano spesso, il Natale scorso sarà successo, succederà durante i saldi, ci si sente rassicurare dal venditore con frasi tipo che un prodotto è a norma, è a regola, la regola d'arte, ma sono affermazioni generiche dietro le quali possono invece esserci dei fondamenti assolutamente scientifici e tecnici. Il nostro lavoro è proprio dare fondamento ai requisiti di qualità e di sicurezza che devono avere i prodotti. Da quasi cent'anni il nostro compito è quello di definire proprio come fare bene le cose. Dottore, ma facciamo un po' di esempi pratici di come la normazione va appunto a colpire qualche settore rivolto ai consumatori, quindi anche per esempio in questo periodo invernale posso immaginare che ci siano dei settori che interessano appunto normazione e soprattutto i consumatori per questa normazione. Sì, allora la normazione di per sé si occupa di infiniti argomenti che interessano i consumatori e alcuni li usiamo ogni giorno. Quando usiamo una carta di credito, un bancomat, i requisiti, le dimensioni, le informazioni che sono contenuti sono stabilite da norme uni. Quando usiamo un foglio di carta A4 è un formato stabilito per norma. Ma in questa stagione certo viene il bello delle norme, molto tangibile, quando si tratta di proteggersi dal freddo. Esistono delle norme che stabiliscono i requisiti proprio di protezione dal freddo e anche dalla pioggia, che tra l'altro sono anche identificabili questi capi, perché al di là di cercare la sigla uni seguita da un numero, ci sono dei simboli, li potremmo forse anche vedere dopo, che identificano proprio il capo che protegge dalla pioggia, per cui protegge dall'esterno dall'acqua ma lascia traspirare verso l'esterno, piuttosto che protegge dal freddo, quindi trattiene il calore e non fa abbassare la temperatura corporea. Per andare a sciare adesso, se si volesse rinnovare l'attrezzatura, si possono comprare caschi che danno tutte le garanzie di sicurezza, di assorbimento dell'urto, di non penetrabilità se delle punte accuminate lo colpiscono, che non hanno bordi taglienti, che non hanno rivestimenti che possano irritare la pelle, che sono facili da sganciare. Oppure, se volessimo scaldare casa con quei termocaminetti che adesso sono estremamente di moda, ci sono delle norme uniche, stabiliscono che non possono appressi accidentalmente, non possono rilasciare fumi, non può entrare la persona che li usa in contatto con le bracci che ci sono all'interno, che i lati esterni che vanno a contatto magari con muri e mobili non si scaldino in modo che non possano generare danni per il resto della casa. Bene, e una domanda volevo farle, ma chi vigila sul rispetto di queste norme? Allora, Uni si occupa di scriverle le norme e tra l'altro, un inciso su non le scrivo io queste norme, nei miei colleghi le scrivono i produttori che discutono con chi commercia, con chi usa, con chi fa le prove su questi prodotti o servizi per garantire che non ci sia l'interesse di nessuno dietro ogni norma, ma che ci sia invece l'interesse della collettività. Il controllo è tutta un'altra famiglia di attività che può essere fatta o dagli enti di certificazione che rilasciano dei certificati di conformità che un prodotto è a norma, oppure dall'autorità quando va su segnalazione di un prodotto pericoloso a verificare se la norma era stata rispettata o no, ma direi che se in un momento di acquisto si cerca su una confezione, su un bollino, su un'etichetta la sigla Uni seguita da un numero che ce ne sono da 1 a 50 mila, ha già una garanzia superiore che non è quella del venditore e basta, ma è quella di tutto quel patrimonio di informazione tecnica, scientifica, che è il nostro compito per rendere più semplice prima la scelta e poi l'uso da parte del consumatore. Quindi se io trovo il marchio Uni su un prodotto sono certo che è stato seguito un disciplinare che è stato concordato, infatti anche noi associazioni consumatori siamo all'interno di Uni appunto perché come diceva il dottore siamo una parte in causa e siamo sicuri che appunto è stato seguito un disciplinare che ci garantisce sulla qualità e sulla tipo di... Qualità, semplicità d'uso, rispetto ambientale e sempre più ci occupiamo anche di sostenibilità, cioè che quel prodotto abbia una vita che non fa danno sul resto dell'ambiente. Va bene, grazie mille dottore, alla prossima e arrivederci a tutti, grazie.